Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video. Oggi non ci sarà la solita video recensione, bensì la sponsorizzazione, quella che faccio ogni mese, di, questa volta, tre prodotti home video della Koch Media o Koch Media Italia, la quale mi ha mandato questi tre prodotti attraverso il loro ufficio stampa, che ringrazio entrambi e con cui spero di collaborare ancora. Ma prima di passare al video è vero e proprio, come sempre, sigla! Bene, i film di cui vi parlo quest'oggi, e che mi sono arrivati dalla Koch Media Italia, sono le versioni plurali di Dogtut, Il Giardino Segreto e Dynasties. Ma partiamo subito con l'analizzare ogni singolo titolo, singolarmente, in maniera un po' più specifica. E il primo titolo di oggi è, naturalmente, Dogtut, che in realtà, spero si pronunci così, visto il mio scarso inglese, un film di Yorgos Lantimos, un regista, sceneggiatore, comunque, cineasta greco, che penso conosciate un po' tutti, soprattutto quelli che mi seguono, perché penso siano proprio amanti del cinema, per aver diretto film come La Favorita, Il Sacrificio del Cervo Sacro, The Lobster. E nel 2009, quindi un film precedente a questi tre che ho appena citato, ha analizzato questo Dogtut, che ci racconta la storia di una famiglia composta dal padre, dalla madre e da tre figli, i quali vivono in una casa in periferia, circondata da un grande recinto, che i ragazzi non hanno mai oltrepassato, e che li separa, naturalmente, dal resto della città. Questo perché i tre ragazzi, i tre figli, sono stati educati, istruiti e cresciuti per il volere dei genitori, senza alcuna influenza dal mondo esterno. Questo equilibrio viene però spezzato quando il padre decide, per soddisfare i bisogni sessuali del figlio, decide di introdurre in casa un elemento esterno, ovvero Christine. Un gran bel film, vincitore del Certain Regard al Festival di Cannes, e anche candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero, e che grazie alla Koch Media Italia, arriva in questa splendida edizione, che vi faccio vedere qua a un video, che trovate sia in DVD, sia, come in questo caso, in Blu-ray, e di cui vi lascio naturalmente tutti i link qua sotto in descrizione per acquistarlo. Il secondo titolo di oggi è invece Il Giardino Segreto, un film di Mark Munden, che ci racconta la storia di Mary Lennox, una bambina di 10 anni, molto permalosa, nata in India da una famiglia facoltosa inglese, che però non l'hanno mai fatta sentire amata. Improvvisamente però Mary perde entrambi i genitori, e viene quindi rimandata in Inghilterra e affidata allo zio Archibald, interpretato in questo caso da Colin Firth, che vive in una remota magione dello Yorkshire. Qui, proprio qui, Mary comincia a scoprire molti segreti della sua famiglia, e comincia ad addentrarsi nei misteri del grande giardino di casa. Un magico luogo di avventure che cambierà, per sempre, il corso della sua vita. Anche naturalmente questo film lo potete trovare in edizione DVD o Blu-ray, grazie alla Koch Media Italia, che ha deciso di portarci in questa splendida edizione a un video ricco anche di contenuti speciali, e di cui trovate naturalmente i link qua sotto in descrizione. Infine, l'ultimo e il terzo titolo di quest'oggi che vi consiglio è Dynasties o Dynasties, i migliori della loro specie. Una serie di documentari, una serie documentaristica della BBC è presentata e narrata da David Hattenberg. Per chi non sapesse chi è David Hattenberg, è un naturalista, è anche un divulgatore scientifico e documentarista britannico che ha realizzato tantissimi progetti, soprattutto nel genere documentario, e sulla natura. E tra i prodotti suoi più celebri c'è sicuramente Il Nostro Pianeta, un documentario a episodi che trovate su Netflix. E vi consiglio, in questo caso, di recuperare, perché è davvero molto affascinante. Mentre questo dynasty ci racconta della vita di cinque degli animali più celebri in via d'estinzione. Lo scimpanzé, il pinguino imperatore, il leone, il licaone e la tigre. Un vero e proprio viaggio dalle pianure dell'Africa alle giungle dell'India, dai confini del Sahara alle distese di ghiaccio dell'Antartide. L'ennesimo splendido documentario non solo di David Hattenberg, ma anche tra quelli, tra i prodotti che la Cockmeet Italia ci ha portato in questi mesi, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni in realtà. Realizzando una splendida edizione on video, che trovate naturalmente anche questa in DVD e in Blu-ray, che adesso vi mostro. Spero si veda in video. Questa apertina. Quella in cartone. E qua abbiamo i due dischi con i vari episodi, con i sei episodi, anzi i cinque episodi, scusate. E all'interno trovate anche cinque card da collezione, con i vari, naturalmente, animali appena citati, i protagonisti del film, del film documentario, della serie documentalistica. Eccole qua. Non so se si sono viste in video, ma comunque se acquistate, se siete interessati, vi lascio naturalmente anche di questo il link in descrizione. E potrete aggiungere alla vostra collezione, soprattutto se siete amanti del documentario, un prodotto di altissima qualità. Ecco quindi i film che vi consiglio per il mese di dicembre, per la Coq Media Italia, che ci tengo a ringraziare ancora con cui spero di collaborare anche per il prossimo mese. Se volete acquistare, se siete interessati a qualche informazione in più, vi lascio naturalmente il link Amazon per acquistare i vari titoli. E trovate tutto qua sotto in descrizione, come sempre. E detto questo, posso concludere, vi mandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividere sui vostri social. Inoltre non mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!